GF VIP 7, nervi tesi tra Antonella Fiordelisi e Donna Maria, anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme. Class uguale P1 non manca di far discutere il tormentato rapporto tra Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. Class uguale P1 i due ragazzi continuano ad avere motivi per bistecciare, non riuscendo a trovare un punto di incontro. Class uguale P1 se Antonella è convinta che Edoardo tornerà da lei, il volto di Forum non è dello stesso avviso. Durante un duro confronto Edoardo è infatti espresso alla schermitrice la volontà di chiudere definitivamente il rapporto con rispetto. Class uguale P1 il vippone si è poi confidato con Daniele, mentre Antonella con Antonino Spinalbese, che ha cercato di farla riflettere sul suo comportamento. Class uguale P1 nelle ultime ore, la sorpresa di Edoardo Tavassi amico l'incurvai ha lasciato tutti commossi. Tra questi Antonella Fiordelisi che non ha trattenuto le lacrime e ha rivelato. Class uguale P1 una ragazza si è poi allontanata in piscina, seguita proprio dal vippone. La regia però ha staccato il collegamento. Grazie. 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 Grazie.